Succo d'anguria per disinfiammare l'addome Tanto l'anguria quanto il cetriolo ed il limone, hanno proprietà depurative che aiutano ad eliminare l'eccesso di liquidi, combattendo l'infiammazione ed apportando vitamine L'infiammazione dell'addome, conosciuta anche come distensione addominale, è uno dei sintomi più fastidiosi che possono essere sperimentati tanto dalle persone in sovrappeso, quanto da quelle magre Non bisogna confondere questo disturbo con l'aumento di peso dovuto all'accumulo di grassi L'infiammazione addominale, in generale, è causata da una cattiva alimentazione, dalla sindrome premestruale, dai gas intestinali e da altri fattori che stimolano il processo infiammatorio Una delle cose che più preoccupa chi ne soffre è che faccia sembrare il corpo infiammato e che renda i vestiti più attillati, favorendo la formazione degli antiestetici e fastidiosi rotolini A volte provoca anche una sensazione di pesantezza e di dolore che, a prescindere dall'aspetto estetico, indica la presenza di problemi digestivi Per fortuna, esistono alcune formule naturali che garantiscono un sollievo immediato, anche quando il gonfiore è dovuto ad un disordine gastrointestinale Per questo, vi proponiamo un delizioso succo di anguria e cetriolo, le cui proprietà favoriscono l'eliminazione delle sostanze di rifiuto e dei gas intestinali Si tratta di una bevanda rinfrescante e facile da preparare, che potrete assumere in qualsiasi momento, per godere delle sue proprietà e sfoggiare un ventre piatto Vediamo insieme di cosa si tratta Succo d'anguria Per eliminare i gas e disinfiammare l'addome grazie al suo alto contenuto d'acqua, nutrienti essenziali e al suo basso indice calorico Questa bevanda può essere integrata in qualsiasi dieta Le sue proprietà digestive favoriscono l'eliminazione delle sostanze di scarto e dei gas, contribuiscono all'assorbimento dei nutrienti e diminuiscono la sensazione di gonfiore L'anguria si combina con il cetriolo, il sedano e il limone, tutti ingredienti salutari che stimolano le funzioni del sistema gastrointestinale Benefici dell'anguria Questo delizioso frutto è composto per il 92% d'acqua e contiene antiossidanti, fibre ed altri importanti nutrienti che migliorano la salute generale del corpo L'anguria è conosciuta come uno dei migliori diuretici naturali, in quanto combatte efficacemente la ritenzione idrica e le infiammazioni Possiede proprietà depurative che facilitano l'eliminazione delle tossine che si accumulano nel corpo, ottimizzando la funzione del fegato e di altri organi, come i reni e il colon Grazie al suo apporto significativo di fibre, regola il transito intestinale, favorisce il buon funzionamento del cuore e la perdita di peso Benefici del sedano È una delle verdure diuretiche più utilizzate È ottimo per combattere i gas, alleviare il dolore ed evitare disturbi quali la stitichezza e la ritenzione idrica Benefici del cetriolo Ricco di proprietà simili a quelle dell'anguria, il cetriolo è un ortaggio povero di calorie e grassi, ideale per combattere l'infiammazione di problemi legati allo stomaco Il suo consumo riduce il gonfiore e favorisce l'eliminazione di gas, alleviando così il dolore e la sensazione di pesantezza È ottimo anche per mantenere una buona salute della pelle e ridurre lo stress ossidativo causato dai radicali liberi Benefici del limone Questo frutto è un eccellente lassativo naturale, ideale per disintossicare il corpo e prevenire disturbi quali la stitichezza I suoi antiossidanti frenano il danneggiamento cellulare Inoltre, il limone possiede proprietà alcaline che favoriscono la regolazione dei livelli di pH del corpo Come preparare il succo d'anguria per disinfiammare l'addome Di facile preparazione, l'ideale è assumere questa bevanda quando si soffre di infiammazione allo stomaco È ottimo sia per prevenire che per curare questi disturbi È molto rinfrescante ed è anche una buona alternativa alle bibite commerciali, che peggiorano questo problema Ingredienti 1 barra 2 anguria 1 mazzo di sedano 1 cetriolo 1 limone 1 litro e mezzo d'acqua Preparazione Eliminate i semini dell'anguria e tagliatela a pezzi Sbucciate e tagliate il cetriolo Lavate il mazzo di sedano Lavate e tagliate il limone a fette Mettete l'anguria, il sedano ed il cetriolo nel frullatore e frullateli con un po' d'acqua Senza filtrarlo, versatelo in una brocca ed aggiungete le fette di limone ed il resto d'acqua Lasciate riposare la bevanda in frigorifero, poi servitela Potete aggiungere dei cubetti di ghiaccio, per renderla più rinfrescante Modalità d'uso Bevete un bicchiere di questa bibita quando avvertite i primi sintomi di gonfiore o indigestione Bevete la mezz'ora dopo i pasti principali Per disintossicare e combattere l'infiammazione, potete assumere questo succo curativo per una settimana